Il sindaco di Venafrorici chiude la città al traffico, auto e tir off limits dal 14 al 20 gennaio. Campo Basso-Roma in 2 ore e 30 minuti, l'obiettivo del summit di stamattina tra l'assessore regionale Vincenzo Niro e i vertici di RFI e Trenitalia entro l'estate assicura il responsabile dei trasporti la riattivazione della tratta Campo Basso-Termoli. Agricoltura sbloccati i pagamenti alle aziende per un importo pari a 10 milioni di euro, Cavaliere nuovo anno parte col piede giusto, ora la programmazione 2021-2027. Alla Fiat di Termoli parte la rivoluzione dal 27 gennaio, 1.607 lavoratori firmeranno un contratto di solidarietà per l'ammodernamento delle linee ed il passaggio alla produzione dell'ibrido. Visenia Fantozzi rompe con Niro, potremmo formare un nuovo gruppo autonomo a Palazzo San Francesco, dice nel corso di una conferenza stampa e al sindaco che a Teleregione lo aveva accusato di dire Fandoni e replica, le critiche sono di natura politica mai personale. E fino allo sport il calcio di Serie D, l'attaccante del Campo Basso Pietro Cogliati chiede aiuto ai tifosi, serve clima positivo, vogliamo mettercela tutta. Basket Magnoli attesa domani dal big match contro il San Giovanni Valdarno. Fuzzal, il Cus Molise acquista Alessio Campanella. Buonasera, ben trovati con la nostra informazione in apertura, l'avete sentito dai titoli, ci occupiamo di inquinamento dell'emergenza, inquinamento il sindaco di Venafro, Alfredo Ricci chiude la città al traffico auto e tir off limits dal 14 al 20 di gennaio. Sentiamo l'apertura di Cristina Niro. Le segnalazioni dell'ARPA parlano chiaro, a Venafro in tante troppe occasioni si superano le concentrazioni di PM10 nell'aria. Quando si parla di PM10 si parla delle cosiddette polveri fini, particelle inquinanti che respiriamo e capaci di assorbire sulla loro superficie diverse sostanze tossiche, come per esempio solfati, nitrati, metalli e composti volatili. Le polveri fini vengono classificate secondo la loro dimensione che può determinare un diverso livello di nocività. Infatti, più queste particelle sono piccole, più hanno la capacità di penetrare nell'apparato respiratorio. E il monitoraggio della stazione ARPA, denominata Venafro 2, che si trova a lungo via Campania, preoccupa. Tanto che il sindaco Alfredo Ricci non ha più alcuna intenzione di restare a guardare rispetto all'impossibilità di non poter adottare un'ordinanza di deviazione del traffico veicolare quando i suoi effetti non abbiano rilevanza ed efficacia soltanto a livello comunale, come stabilito da prefetto, avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, decreto della Regione e nota dei Ministeri dell'Ambiente e dell'Interno. Ricci, in realtà, aveva inviato una nota a tutti gli enti preposti, corredata dagli allegati ARPA, e chiedendo, dunque, l'adozione di necessari e opportuni provvedimenti. Nessuno ha risposto. Di contro ci ha pensato l'ARPA, però, ad inviare nuovamente al Comune ulteriori segnalazioni di superamenti della concentrazione media giornaliera del PM10, e con la richiesta di adottare provvedimenti urgenti. Ricci non è rimasto a guardare e, probabilmente, per la prima volta in Molise, arriva un'ordinanza a firma di un primo cittadino dirompente e significativa. Il Sindaco di Venafro, ritenendo la salute un diritto primario dell'individuo e della collettività, a fronte di un lungo elenco normativo e di motivazioni valide che non possono più aspettare, ha ordinato che, a partire dal 14 e fino a tutto il 20 gennaio prossimo, dunque per sette giorni consecutivi, sul territorio comunale è fatto obbligo spegnere i motori dei veicoli in caso di sosta prolungata. Gli impianti di riscaldamento alimentati a gasolio e a biomassa, con esclusione degli impianti installati negli edifici adibiti a ospedali, luoghi di cura, scuole, di ogni ordine e grado, potranno funzionare soltanto 10 ore al giorno. Su tutto il territorio comunale è vietata la circolazione di autovetture Euro 0 alimentate a benzina, nonché Euro 0, Euro 1, 2 e 3 alimentati a gasolio, dalle 9 alle 19.30. Circolazione vietata anche a ciclomotori e motoveicoli Euro 0 e 1, sempre dalle 9 alle 19.30. Veicoli di massa pieno carico inferiore a 6,5 tonnellate Euro 0, Euro 1, 2 e 3 alimentati a gasolio non potranno attraversare il territorio di Venafro dalle 7 alle 21. Idem per quelli di massa pieno carico superiore a 6,5 tonnellate e per gli autobus Euro 0 dei gestori di servizi TPL e dei gestori di servizi turistici. E ora ci occupiamo di trasporti Campobasso-Roma in 2 ore e 30 minuti. L'obiettivo del summit di questa mattina a Campobasso tra l'assessore al ramo Vincenzo Niro e di vertici di RFI e Trenitalia. Sentiamo i particolari nel servizio. Campobasso-Roma in 2 ore e mezza con treni a movimentazione elettrica che arrivino a termini ma non al binario 20 bis e l'oggetto del doppio vertice di questa mattina presso l'assessorato ai trasporti, l'assessore regionale Vincenzo Niro ha incontrato in due incontri diversi l'ingegnere del vasto capodipartimento di RFI e l'ingegnere Diamantini di Trenitalia. Noi abbiamo ribadito che vogliamo portare e ridare ai cittadini molisani la stessa qualità che viene data agli altri cittadini delle altre regioni. Per cui per noi significa arrivare a stazione Termini partendo da Campobasso in 2 ore e mezza massimo di 2 ore e 40. Questo credo che è un obiettivo che è possibile raggiungerlo. Ho chiesto loro di fornirci la documentazione che attesti questo visto che siamo anche in una fase avanzata dei lavori sulla tratta sulla elettrificazione e sulla velocizzazione della tratta Rocca-Ravindola-Campobasso però buondio se velocizzare significa anche correggere i raggi di curvatura dei binari significa sostituire le traverse, significa intervenire sui binari, sugli armamenti, sulle stazioni ferroviarie. Insomma questo richiede un impegno notevole. Io sono convinto... Di cosa parliamo? Di quanto è l'investimento? Guarda, l'investimento è quello degli 80 milioni che avevamo già firmato alla Convenzione per cui quello è l'investimento. Il tema è che quell'investimento probabilmente va aggiunto qualcosa che sta mettendo in piedi il sistema Rete Italia, quindi Ferrovie dello Stato RFI e riguarda l'armamento, riguarda la rete. Per quanto riguarda Trenitalia c'hanno un contratto che scade nel 2023 io ho ribadito loro che chiedo che quel contratto venga rispettato nei minimi particolari oggi non è rispettato e gliel'abbiamo ribadito stamattina. Dunque treni che rispettano la natura e più veloci per garantire ai molisani gli stessi diritti dei cittadini delle altre regioni. Prossimo step il 21 gennaio nel nuovo incontro RFI metterà sul tavolo due proposte per completare l'elettrificazione. La prima prevede l'interruzione della linea e la conseguente erogazione del servizio con mezzi sostitutivi per completare l'ammodernamento in tempi più rapidi. L'alternativa invece è il mantenimento del servizio su rotaia con i lavori effettuati di notte. Le due proposte saranno sottoposte all'attenzione del Consiglio regionale. Guardi abbiamo i termini della convenzione che sono chiari a tutti e che riguarda dicembre 2022. Proviamo a fare dei miracoli se ci riusciamo. Altra tematica affrontata la riattivazione entro l'estate della linea ferroviaria Campobasso-Tero. Abbiamo l'impegno da parte di RFI di consentire che ciò avvenga prima dell'estate o dentro l'estate. E adesso aspettiamo il programma Trenitalia che ci dica in che termini e quando riaccende le tracce, quindi le linee, la tratta, gli orari delle tratte. Interventi interesseranno anche diversi passaggi a livello che interessano il tracciato, in particolare quelli di Campobasso per non congestionare il capoluogo di regione. Ed ora ci occupiamo di agricoltura. Sbloccati i pagamenti alle aziende, garantite subito liquidità per misure a investimento e superficie. Soddisfatto l'assessore Nicola Cavaliere. L'anno è iniziato bene, ora lavoriamo insieme alla programmazione 2021-2027. Le misure interessate sono la 10, la 11 e la 13, agroambiente, biologico e integrato, relative alle annualità che vanno dal 2015 al 2018 e per un importo complessivo di 10 milioni di euro. E ancora entro il mese di febbraio saranno liquidate a saldo con procedura automatizzata tutte le imprese per l'annualità 2019 dalle misure a superficie. La previsione di spesa per quest'anno è pari a circa 35 milioni di euro in modo da raggiungere, dice Cavaliere, il fatidico obiettivo di N più 3 già il prossimo mese e introdurre risorse consistenti in un settore che non ha certo superato completamente le sue tante criticità ma può affrontare forse con meno patemi il futuro. Tutto ciò, commenta l'assessore Cavaliere, grazie all'impegno del Presidente, dell'Aggiunta e dell'intera maggioranza regionale. Cambiamo argomento. Questa mattina la salma di Fausto Valeri è stata restituita alla famiglia per le esequie. Il 74enne Isernino, imprenditore edile in pensione, è morto ieri in un tragico incidente stradale sulla piana di Macchia. è ricoverato in rianimazione in condizioni stabili l'autista dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro. Negativi alcol e test drug svolti sul 43enne di Castel di Sangro, Nicola De Santis. La comunità di Isernia è sotto shock per la morte di Fausto Valeri, 74enne imprenditore edile in pensione, molto conosciuto e stimato in città. Ha perso la vita ieri in un tragico incidente stradale sulla Venafrana, lungo la piana di Macchia. Il suo doblò si è scontrato frontalmente con una Ford Focus che viaggiava in direzione di Isernia. L'impatto è stato violentissimo. Fausto Valeri è morto durante il trasporto in ospedale, nonostante i medici abbiano fatto il possibile per salvargli la vita. La salma è stata restituita alla famiglia questa mattina per la celebrazione delle sequie. Migliorano intanto le condizioni delle altre quattro persone coinvolte. Il più grave è il conducente della Focus, un 43enne di Castel di Sangro ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni sono definite stabili pur nella loro gravità, dai sanitari che non hanno ancora sciolto la prognosi. Le analisi del sangue hanno escluso l'assunzione di alcol o droga da parte dell'uomo. Fuori pericolo invece gli altri tre feriti. Quel tratto di strada già in passato è stato teatro di numerosi incidenti stradali, anche mortali. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre i feriti dalle lamiere contorte, proprio per la violenza dell'urto. Toccherà alla polizia stradale di Sernia, cui sono affidate le indagini, ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Gli agenti della polizia ferroviaria a bordo del treno interregionale partito da Campobasso e diretto a Roma, giunti alla stazione di Carpinone, hanno controllato un nigeriano di 26 anni. Gli agenti si sono insospettiti per questo, appunto, lo hanno controllato, lo hanno identificato e perquisito, trovando nelle tasche dei pantaloni un involucro di celofan con 11 grammi di marijuana. Il 26enne è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Tragedia sfiorata nel tardo pomeriggio dello scorso 8 gennaio, un tentativo di suicidio all'altezza del viadotto San Vito della tangenziale di Campobasso. A quell'ora sul posto stava passando libero dal servizio un poliziotto in servizio presso la questura quando ha notato l'auto insolitamente ferma al centro della carreggiata e l'uomo che aveva scavalcato il guardrail sporgendosi pericolosamente dalla ringhiera di protezione. L'operatore di polizia si è fermato e con cautela si è avvicinato all'uomo cercando di parlargli per tranquillizzarlo e farlo desistere dall'insano gesto poiché il giovane non interagiva apparendo in stato confusionale il poliziotto è intervenuto afferrandolo con determinazione e trascinandolo in strada ormai fuori pericolo e dunque salvandogli la vita. Cinzia Guercio è il nuovo prefetto di Cosenza. è stata nominata dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Cinzia Guercio è stata a Disernia fino a poche ore fa e dunque tra qualche giorno prenderà servizio a Cosenza. andrà a sostituire Paola Galeone agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Taranto con l'accusa di induzione in debita a dare o promettere utilità a Galeone che è stata anche a Campobasso. Ora cambiamo argomento. Andiamo a Disernia, conferenza stampa questa mattina dei popolari con colpo di scena finale. Il portavoce Gianni Fantozzi annuncia la possibilità di formare un nuovo gruppo autonomo a Palazzo San Francesco. Le critiche al sindaco sono di natura politica, ha aggiunto, mai personale, questa dunque la risposta agli attacchi del primo cittadino che tramite Teleregione, che a Teleregione lo aveva accusato di dire Fandonie. Sentiamo allora il resoconto di Nicola De Santis. I popolari per l'Italia hanno convocato una conferenza stampa nella sala Museo Raucci di Palazzo San Francesco per rispondere alle accuse mosse dal sindaco Giacomo D'Apollonio nei confronti del gruppo. In particolare Gianni Fantozzi ha spiegato che le critiche verso il primo cittadino sono di natura squisitamente politica e mai personale. Mi fa specie pensare che il sindaco possa pensare che noi pensassimo qualcosa di negativo nei suoi riguardi come persona. Come persona è eccellente, non c'è nulla da dire. Però purtroppo amministrativamente sarà che la scelta delle persone, dei suoi collaboratori più stretti non è stata del tutto felice e possiamo dire che politicamente sono incompetenti, tranne qualcuno insomma. Questo ci ha portato a non aggregare. Il problema serio è questo, che questa giunta non ha aggregato attorno a sé il Consiglio Comunale. Ha disgregato. Ogni occasione, ogni sollecitazione che proveniva essenzialmente da questo gruppo veniva presa come una qualcosa di contestazione, non qualcosa di costruttivo. Di contestazione, non c'è stato mai un confronto diretto, motivo per cui abbiamo preso le distanze. Però questo non significa che non voteremo i provvedimenti a favore della cittadinanza. Fantozzi ha anche annunciato che il gruppo politico di cui è portavoce potrebbe presto sganciarsi da Vincenzo Niro. Non per calcoli politici, ma ufficialmente per evitare imbarazzi in giunta all'assessore e ai trasporti. Noi stiamo valutando, per non creare problemi all'esecutivo regionale, si sta valutando, stiamo valutando la possibilità di poter smarcarci dalla situazione politica attuale. Ma non è detto che si ragiona, in politica si ragiona, vediamo un attimo le cose come vanno. La politica è in continua evoluzione, al momento siamo dei popolari, continuiamo a essere popolari, siamo nel centro-destra, potremmo anche andare a finire nel centro-sinistra, le cose non si stanno. Verifichiamo un attimo qual è la situazione, per il momento siamo un gruppo pensante. Noi non abbiamo vingoli di nessun genere con chi che sia, abbiamo dei punti di riferimento precisi. Vorremmo non creare problemi all'esecutivo regionale, considerato anche l'attuale situazione non troppo felice dell'esecutivo regionale. Toma è alle prese con una ricomposizione dell'esecutivo. Non vorremmo che la nostra azione politica al Comune di Sernia possa in qualche modo intaccare o creare problemi a livello di regione. Dunque il gruppo composto da Azzolini, De Marco, Di Luozzo, Fantozzi, Pizzi e Succi, in rigoroso ordine alfabetico, voterà in futuro nel mero interesse dei cittadini di Sernia e non sarà mai più allineato sulle posizioni della maggioranza, a meno che non accada l'imponderabile. Certo, così sarà, perché noi vogliamo che i problemi, i provvedimenti che riguardano l'intera cittadinanza vanno a favore della cittadinanza, saremo i primi a portarli. Anzi, sui problemi seri, se veniamo coinvolti, saremo pronti a fare le nostre proposte, ci confrontiamo e siamo pronti a votare sempre tutti i provvedimenti. Torna ripeto, noi siamo centro-destra. E allora, l'avete sentito, il portavoce dei popolari Gianni Fantozzi annuncia la possibilità di formare un nuovo gruppo autonomo, di smarcarsi in sostanza dai popolari per evitare imbarazzo in giunta al leader Vincenzo Niro, che a caldo ha così risposto sempre questa mattina. Sentiamo. È un gesto galante di Fantozzi, è sempre, lui è il capogruppo di un gruppo di sei persone e quindi mi aspetto che continui a portare avanti il pensiero dei popolari perché credo che in questo periodo lo abbia ben interpretato. Le dichiarazioni di Vincenzo Niro, cambiamo argomento, il lavoro paga, il turismo potrà creare occupazione. Così l'assessore Vincenzo Cotugno commenta la notizia del New York Times che incorona il Molise, la piccola regione tra i 52 luoghi da visitare nel mondo nel 2020. Valentina Ciarlante Se sei alla ricerca dell'Italia incontaminata e tradizionale, l'hai trovata, è il Molise e se non l'hai mai sentita non essere in imbarazzo, anche molti italiani non la conoscono. Parole del New York Times, il quotidiano americano, puntualmente, come sempre nei primi giorni di gennaio, ha diramato la speciale classifica dei 52 luoghi del mondo da visitare nell'anno appena è iniziato. Ed ecco che se nel 2020, il primo posto in cui atterrare Washington, il Molise si attesta sulla 37esima piazza. Nella motivazione vengono elencate alcune delle bellezze simbolo, l'area archeologica di Sepino, l'andocciata di Agnone, la transumanza, recentemente eletta a patrimonio UNESCO, ancora la transiberiana d'Italia, il mare e la storia di Termoli, le montagne innevate di Campitello Matese. La piccola regione italiana viene posta poco dopo Parigi e prima di Copenaghen, Minorca e della Mongolia. In graduatoria altri due luoghi meravigliosi d'Italia, la Sicilia al settimo posto e Urbino al cinquantunesimo. La notizia è diventata virale sui social e ha scatenato una ridda di commenti positivi. Il settore turistico può beneficiarne e a dire la sua è anche l'assessore regionale al ramo, Vincenzo Cotugno, che sin dal suo insediamento si è posto un obiettivo, creare occupazione e sviluppo attraverso il turismo. Riuscirci ne è convinto, si può. Il riconoscimento del New York Times si lega per lui anche al gran lavoro svolto sin qui per rivitalizzare il comparto. Continueremo a lavorare in quest'ottica e per questi obiettivi di portare fuori dai confini regionali una regione bellissima con le sue eccellenze, con le sue peculiarità e unicità. Stiamo lavorando con tutto il governo regionale e anche il consiglio regionale in quest'ottica. Il gioco di squadra paga. Remiamo tutti nella stessa direzione e io sono convinto che la nostra regione con l'asse del turismo potrà dare una grossa mano allo sviluppo di questa regione e quindi all'occupazione. Non è la prima volta che il New York Times premia l'Italia. Lo scorso anno in classifica c'erano la Puglia e la Riviera Ligure. Nel 2018 la Basilicata occupava il terzo gradino del podio. Seguivano l'Emilia Romagna e l'Alto Adige. In Molise c'è tutto ed è da vedere perché è genuino, vero, immutato e intatto. Il richiamo viene da oltreoceano. Chissà che in molti non asseconderanno la curiosità di scoprire questa terra così naturale, forse troppo bistrattata e poco considerata, spesso dagli stessi molisani. Il 2020 dovrà essere l'anno del riscatto per il Molise. Bisogna avere l'ambizione di puntare in alto con progetti e iniziative che diano lustro a questa regione. Motivo per cui accolgo con estremo favore la volontà da parte dell'amministrazione comunale di Isernia di candidare la città capitale italiana della cultura 2021. Così Filomena Calenda che da presidente della quarta commissione consigliare permanente della regione e da consigliere comunale del capologo Pentro sposa in pieno la volontà di far concorrere il capologo di provincia a questo prestigioso concorso. Le peculiarità del territorio sono famose anche oltreoceano. ha continuato Calenda con un chiaro riferimento all'articolo del New York Times a volte siamo i primi a non credere alle capacità attrattive della nostra terra ma i riconoscimenti fin qui ottenuti devono aprirci gli occhi. Oggi ha concluso Calenda, serve uno sforzo condiviso per sfruttare queste importanti opportunità. Adora andiamo a termoli, cambiamo argomento, parliamo della Fiat perché parte la grande rivoluzione dal 27 gennaio 1.607 lavoratori firmeranno un contratto di solidarietà per consentire l'ammodernamento delle linee ed il passaggio alla produzione dell'ibrido. I settori interessati sono quelli dell'8 e del 16 valvole. La Wilm chiede da subito la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali. Giovanni Cannarsa Si chiama contratto di solidarietà e prevede nuove modalità e tempi di lavoro per i dipendenti dello stabilimento Fiat di Termoli. Se ne parlava già da tempo e servirà per affrontare le nuove produzioni dei motori Firefly 1000 del 2005. A quanto pare nella riunione che si è tenuta ieri è stato stabilito che il contratto di solidarietà dovrebbe partire il prossimo 27 gennaio e terminare il 2 agosto di quest'anno. In questo modo il 28 gennaio si fermeranno le linee produttive dell'8 valvole e dal 31 agosto il montaggio dello stesso settore. In totale la nuova contrattazione temporanea interesserà ben 1676 lavoratori dell'impianto di rivolta del Re, ossia tutti coloro che sono collegati ai settori 8 e 16 valvole. I realmente interessati in esubero temporaneo saranno invece al massimo 806 al mese. Ogni operaio dovrà garantire una percentuale di presenze pari al 30% ogni mese mentre in base a quanto è stato siglato è anche previsto una verifica mensile per certificare l'andamento del contratto di solidarietà e per studiare gli aspetti relativi ai contratti quali ferie, rate e tredicesima. Per ricollocare i lavoratori nei nuovi settori di produzione saranno organizzati corsi di formazione che prevedono l'obbligo della partecipazione anche durante la cassa integrazione. Oltre agli aggiornamenti delle linee e gli aspetti che interessano i lavoratori l'azienda ha comunicato che sempre dal 27 gennaio ci sarà l'aumento di produzione nell'area motori 2000 T4 che passerà 18 turni sul montaggio e 17 turni di lavorazione mentre la manutenzione collegata passerà 20 turni settimanali. Si tratta in definitiva della grande rivoluzione più volte annunciata e poi sempre rimandata adesso però ci siamo e anche lo stabilimento di Termoli si appresta a fare un passo importante per andare incontro alle nuove esigenze di mercato. Per produrre l'ibrido e nuovi motori occorre tutto ciò e questa lunga fase di transizione nella speranza che tutti i dipendenti riescano a trovare nuova occupazione con il nuovo impianto a regime. La Wilm attraverso una nota ha fatto sapere di aver chiesto fin da subito di voler tutelare gli attuali livelli occupazionali tramite gli ammortizzatori sociali. Il riferimento, il nostro auspicio si legge nella nota della Wilm, è che in questa complicata fase fondamentale per il futuro tutti possano assumersi le proprie responsabilità affinché si possa davvero preservare il bene di tutti i lavoratori. Tutta la cittadinanza di Montaquila è invitata a partecipare agli incontri organizzati dal Comune sulla gestione dei rifiuti. Il primo incontro si terrà domenica 12 gennaio alle ore 18 presso il Salone dell'ex Presidenza della Scuola a Montaquila e il secondo domenica 19 gennaio sempre alle 18 presso l'ex Scuola Elementare di Rocca Ravindola. L'amministrazione insieme alla ditta Valerio responsabile della raccolta dei rifiuti illustrerà le novità relative all'imminente entrata in vigore della raccolta differenziata. Curiamo le radici del futuro e il motto che ben riassume l'attività scolastica dell'Istituto Comprensivo Montini di Campobasso. Questa istituzione scolastica definita spesso una grande famiglia e tra le più importanti nel capoluogo aprirà le sue porte per dare un'idea delle attività che si svolgono. Gli incontri si svolgeranno tutti a gennaio. Le scuole primarie Giovanni Paolo II e Di Mascione domani 11 gennaio, il 19 e il 25 alle ore 10.30. Negli stessi giorni alle 17 si apriranno le porte della secondaria di primo grado di Via Giovannitti. Alla Scuola dell'Infanzia Cep Nord si può andare oltre la giornata di oggi anche il 18 alle 16.30 e il 26 alle 10.00 alla Scuola dell'Infanzia Cep Sud invece oggi alle 17.30, il 18 alle 15.30 ed il 26 alle 11.00. L'obiettivo è fornire un quadro chiaro di quanto di meglio ci si possa aspettare dai tre segmenti di scuola dell'istruzione. Bene, ora vediamo che tempo farà domani sul Molise con il nostro meteo. Previsioni del tempo per sabato 11 gennaio. Infiltrazioni umide e scorrimento lungo il bordo meridionale dell'alta pressione raggiungono il Molise rinnovando cieli nuvolosi o molto nuvolosi ma senza fenomeni degni di nota. 20 deboli occidentali, 0 termicon all'intorno ai 1800 metri, basso adriatico poco mosso. Queste le temperature nei maggiori centri della regione Campobasso minima 1, massima 5 gradi. Sernia temperature comprese tra l'1 e i 7 gradi. Termoli 8-12 gradi. Venafro 2-8 gradi. È tutto per questa edizione. Ora linea alla regia ma restate con noi perché tra pochissimo c'è la pagina sportiva. Parleremo del Campobasso con le dichiarazioni dell'attaccante Pietro Cogliati, ospite ieri sera di Molise Sport, trasmissione curata da Franco Presutti. ci occuperemo anche di basket perché la Magnolia è attesa domani dal Big Match in casa del San Giovanni Valdarno ma anche Fuzzal con circolo la nebbia Cusmonise e Sporting Venafro a tra pochissimo. Lo sport, il calcio di Seredì, Campobasso atteso dal Big Match di domenica in casa del San Nicolò Notaresco. Lupi, i lupi hanno bisogno dei tifosi, lo ha detto chiaramente ieri sera l'attaccante Pietro Cogliati, ospite di Molise Sport. Seguiamo uno stralzo del suo intervento. Stiamo intanto vedendo, Pietro, le immagini. Non voglio più vederle io. Sei un po' il beniamino. Certo, siete tutti simpatici, bravi, bravi persone. In particolare spesso noto che tu sei un po' il beniamino dei tifosi anche sui social, sui gruppi. Non solo perché hai segnato otto reti fino ad ora, ma anche perché il tuo impegno in campo è palpabile. Mi fa piacere, mi fa piacere. Sono arrivato qua appunto a fine ottobre, inizio novembre, che avevo tanta voglia di dimostrare. Perché sono contento di essere arrivato, di essere stato fisicamente bene fin da subito. Vuol dire che comunque anche se da solo ho lavorato bene durante l'estate. Sono contento perché è una piazza che merita, che ha avuto tante delusioni negli ultimi anni. E quindi è giusto anche ripagare un po' la fiducia che i tifosi ci stanno dando. E infatti gli chiedo di starci vicino, anche quando succedono queste cose qua, come Avezzano, questi episodi negativi, di starci comunque vicino. Perché noi vogliamo mettercela tutta e adesso dobbiamo ragionare partita per partita per dare il meglio di noi stessi. Purtroppo siamo partiti un po' col freno a mano e adesso dobbiamo continuare questa striscia di risultati comunque positivi. E poi si vedrà. Si vedrà e chiedo appunto ai tifosi di starci vicini perché l'abbiamo bisogno. Non abbiamo bisogno di situazioni fuori dal campo che magari può essere... Le critiche ci stanno nel calcio, cioè ci mancherebbe. Però bisogna comunque creare un clima positivo. Cioè è positivo perché la società comunque ha dimostrato di esserci. E quindi bisogna, come dire, sfruttare il momento. Ed ora i campionati regionali. Iniziamo dall'eccellenza. Il programma è la diciassettesima giornata. Ci sono sei anticipi domani pomeriggio. Scenderanno in campo Alife Vairano, Baranello Isernia. Campobasso 1919 Termoli, 1920 Rocca Sicura Venafro. Sesto campano Pietra Montecorvino, Treppini, Matese, Real Guionesi. Domenica invece Capriatese, Acri, Campobasso e Campodipietra. E Boiano Polisportiva, Gambatesa. Per la promozione invece sono soltanto due gli anticipi del sabato. Giocheranno Carovilli Volturnia e poi Donche Isagnone, Atletico San Pietro in valle. Tutte le altre gare si giocheranno regolarmente domenica. Il basket di Serie 2 femminile, sedicesima giornata, gara tutta da gustare. Quella tra Magnoli a Campobasso e San Giovanni Valdarno. Si gioca domani con palla a due alle ore 21. Sempre domani Faenza Umbertide, mentre sempre domani si dice Largius Laspezia, Virtus Cagliari-Cuscaiari, il derby e poi gli altri match regolarmente domenica. E allora vediamo come si sta preparando la Magnolia Campobasso all'importante sfida. Le Rosoblu puntano a dare continuità alla prestazione vincente di sabato scorso a Viterbo. Sentiamo Vincenzo Ciccone. Prima di ritorno per la Magnolia Campobasso, domani sera i Fiori d'Acciaio saranno ospiti con palla a due alle ore 21 nel San Giovanni Valdarno. In una sfida tra due corazzate del girone sud della due cestistica in rosa. Le Toscane sono però attualmente settime a 14 punti, otto e meno delle Rosso-Blu, complice a un calendario che ha visto la formazione di Altobelli sempre fuori casa nei match club durante il girone andata. Tra le Campobasso è recuperata Lucia di Costanzo, che però non sarà rischiata nella circostanza. Su fronte ospitali, invece, non sarà della gara l'Argentina-Rossé, con cui il club ha chiuso il contratto in settimana. Ieri, intanto, un'altra argentina, la Rosso-Blu Carolina Sanchez, è stata ospita del salotto di Molise Sport ed ha parlato così di questa gara. Speriamo di fare bene queste partite che saranno... San Giovanni non è una squadra facile, allora dobbiamo trovare il modo di portare questa vittoria a casa, già che l'obiettivo nostro è arrivare bene per il primo campionato che è la Coppa Italia a marzo e poi anche il fatto di arrivare bene in play-off. Dobbiamo continuare a lavorare tanto come squadra. Siamo una squadra quasi nuova, dopo cinque ragazze che sono rimaste l'anno scorso, ma siamo arrivati altre che ci dobbiamo abituare ancora a mettere il gruppo insieme, ma stiamo riuscendo a farlo. Noi non ci possiamo rilassare. Sappiamo che tutte le squadre, anche qua in casa, vengono a vincere. Sanno che trovano sempre il primo in classifica e, come ho giocato in altre squadre, sempre vuoi vincere al migliore. Allora penso che tutte le squadre pensano a venire qua a portarci la vittoria. Sempre basket, ma di Cigold, gli impegni dell'undicesima giornata. In casa il Globo Isernia contro basket Irpinia, domenica con palla 2 alle 18. E sempre domenica in trasferta, però il basket Venafro sul campo di Salerno, sempre palla 2 alle 18. Gli altri match sono Angri Catanzaro, Bellizia Agropoli, Forio e Cercola. Vediamo anche la schermata, New Caserta Maddaloni e poi appunto i due match che riguardano le Molisane. Infine Futsal di Serie A2, 14esima giornata con la grafica. Vediamo gli incontri in programma domani. A sopporto Melilli, Magic, Crati, Atletico Cassano, Manfredonia, Barletta, Real, Rogit, Cataforio, Futsal, Regalbuto, Circolo, La Nebbia, Cus, Molise, Bisceglie, Futsal, Polistena, Real, Cefalu, Virtus, Rutigliano, San Michele. Riprende il campionato con un nuovo acquisto per il Circolo, La Nebbia, Cus, Molise. Il team di Mr. Sanginario, già dalla gara di domani contro il fanalino di coda, Bisceglie potrà contare sulle prestazioni di Alessio Campanella. Out, invece, Bardichello e Ciocca nel servizio di Vincenzo Ciccone. Ci occupiamo anche di Sporting e Venafro. Sfida con l'ultima della classe Bisceglie, ancora a secco di punti, per il CLN Cus, Molise, nella prima di ritorno del girone C della 2 di Futsal. Il quintetto di Sanginario, nella circostanza, potrà contare anche sull'ultimo innesto Alessio Campanella. Per il team di Sanginario, inoltre, mercoledì a Nocea e Inferiore, c'è stata la gara di Coppa Italia con Real San Giuseppe, impostosi per 6 a 5. In campo domani, ma per la Coppa Italia di Serie B, anche lo Sporting Venafro, che affronterà al Palapete Montana la Cerra, team impegnato nel raggruppamento F di Catetteria. In caso di successo, ci sarà poi il turno che potrebbe portare sino alla finalette di Coppa, contro la vincente tra Limatola e Terracina. Bene, tutto con l'informazione sportiva. Grazie per aver scelto il nostro Tg. Arrivederci. Grazie a tutti.